Mister è arrivato il quarto risultato utile consecutivo, tre vittorie nelle ultime tre partite, è una vittoria meritata che da morale e anche da un punto di vista della classifica è molto importante. Come l'avete preparata, come l'avete approcciata e se sei soddisfatto ovviamente della prestazione dei tuoi ragazzi? Sicuramente molto soddisfatto, ragazzi sono partiti bene come avevo richiesto, siamo partiti in avanti e abbiamo avuto subito occasioni. I ragazzi hanno fatto la partita che dovevano fare, potevamo forse chiuderla prima, probabilmente anche il gol di Dennis era regolare che ci avrebbe portato sul 3-0. In queste partite c'è molta tensione, alla fine abbiamo un po' sofferto ma è normale, i ragazzi comunque sentono l'importanza di queste gare però mi hanno stretto i denti e l'abbiamo portato a casa. Sicuramente l'ultimo periodo, anche dopo la sosta per le nazionali, vi vede in grandissima forma, come l'avete sfruttata e come state lavorando in quest'ultima fase di stagione che comunque restano ancora sette partite di campionato da giocare? Noi stiamo andando avanti con il lavoro che avevamo impostato comunque prima, bastava solo fare dei risultati, sicuramente la fiducia è aumentata nei ragazzi, si vede anche nelle giocate che fanno, abbiamo trovato una buona alchimia soprattutto davanti, riusciamo a farlo spesso con gli attaccanti, quindi è importante. Soprattutto è una squadra che si aiuta molto dentro e fuori dal campo tutti quanti, dal primo all'ultimo, quindi mi fa ben sperare per le prossime partite.